Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Buone notizie per gli appassionati di televisione italiana. Marco Liorni, noto conduttore televisivo, è stato recentemente scelto dalla Rai per assumere un ruolo di primo piano in uno dei suoi programmi di punta. Questa mossa potrebbe significare un cambiamento significativo nel panorama televisivo, con Liorni che si afferma come una figura centrale nella programmazione della Rai. Marco Liorni, che ha già dimostrato le sue capacità come conduttore del popolare quiz show, Reazione a Catena, ha registrato ascolti eccellenti, consolidando la sua reputazione come uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della televisione italiana. La sua abilità nel coinvolgere il pubblico e nel gestire con maestria i momenti clou dello show hanno attirato l'attenzione dei vertici Rai, che ora sembrano pronti a affidargli responsabilità ancora maggiori. Secondo le indiscrezioni riportate da TV Blog, Marco Liorni è in pole position per condurre, l'eredità, uno dei programmi di maggiore successo di Viale Mazzini. Questa scelta potrebbe segnare un passaggio di testimone da Flavio Insinna, attuale conduttore del programma, a Liorni. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento, i vertici Rai non hanno né confermato né smentito queste voci. La potenziale scelta di Liorni per, l'eredità, non è solo un riconoscimento del suo talento e del suo appeal con il pubblico, ma rappresenta anche un'evoluzione nella strategia della Rai per mantenere alto l'interesse e l'engagement dei telespettatori. Con la sua esperienza e il suo carisma, Liorni potrebbe portare una ventata di freschezza a un programma già molto amato, attirando forse un pubblico ancora più ampio. Inoltre, la situazione di Pino Insegno, un altro volto noto della Rai, sembra essere in una fase di transizione. Dopo il meno fortunato, il mercante in fiera, Insegno potrebbe trovare nuove opportunità o sfide all'interno della programmazione Rai. In conclusione, mentre attendiamo conferme ufficiali, l'ipotesi di vedere Marco Liorni alla guida di, l'eredità, stimola l'interesse e le aspettative del pubblico. La sua capacità di connettersi con la gente e di portare energia e divertimento sul piccolo schermo potrebbe essere la chiave per il successo continuato di questo storico programma Rai. Grazie a tutti! Grazie a tutti!